sul vino hanno qualche idea sì avete vini californiani certamente vini californiani ci sono dei cabernet molto buoni e noi nella nostra cantina abbiamo sicuramente ma scegliamo insieme il vino no perché ciao ciao ti presento i miei amici lui è sono amici del giornale quale giornale no 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 siamo venuti a mangiare qua da noi noi siamo venuti a mangiare qui qui noi siamo venuti qua a mangiare cameriere non c'è nessuno ci penso io vado in cucina gliene canto 4 ciao ciao aspettami qua aspetta che vengo con te lo conoscete da molto da cinque minuti non vi conoscete vi siete dati appuntamento qui come appuntamento lui era già qui ci è arrivati l'anticipo ma non è da lui è strano avete già scelto il vino sì stavamo pensando di orientarci su un vino californiano california